Oggi ti parlo del fantastico segreto che ha Stephen King che svela nel suo libro On Writing. Non so se è uno scrittore di quelli che segui, ma se guardi la sua bibliografia ha scritto veramente una maria infinita di libri. Questo suo grande segreto è una cosa veramente veramente semplice che tutti noi possiamo applicare. Ed è questa. Non importa che lui sia stanco, riposato, non sia ispirato, abbia fatto tardi la sera prima, lui ha questa singola regola, ovvero scrivere 2000 parole ogni giorno. Tutto il resto non importa, lui continuerà a scrivere fino a che non avrà scritto queste maledette 2000 parole. E questo significa che a volte alle 11 di mattina già finito altre volte continua a scrivere fino a tardanotte, ma questa è l'unica singola regola che lui segue. Oggi voglio portare la tua attenzione proprio su questo. Definisci una singola azione che devi fare ogni giorno per avvicinarti al tuo obiettivo e falla tutti i giorni, indipendentemente da tutti gli imprevisti che puoi avere. Ti assicuro che, come Stephen King che butta fuori i libri a go-go, anche tu potrai riuscire a raggiungere qualunque obiettivo. Per oggi è tutto, sono stato molto sintetico. Se trovate utile questa pillola, clicca mi piace e condividi. Io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, so che può sembrare banale questa strategia, ma la verità è che fare un piccolo passo, anche veramente minuscolo, ma fatto tutti i giorni ti porterà indiscutibilmente all'obiettivo. Spesso utilizzo questo esempio che rende perfettamente l'idea. Sicuramente avrai qualche libro che vuoi leggere ma non ha mai tempo di iniziare e quindi sul comodino in libreria a prendere polvere da mesi. Immagina di avere letto ogni giorno una singola pagina a iniziare da quando l'hai appoggiato in libreria. Probabilmente quel libro sarebbe già finito. Oppure se l'hai appoggiato lì da poco, potrebbero essere passati magari solo due mesi, sai che quel libro è ancora da iniziare quando in realtà avreste potuto già leggere 60 pagine. E poi, come tutte le cose, la parte difficile non è l'azione ma è iniziare. Per cui una volta che inizierai a leggere la singola pagina, una pagina porterà a due, la seconda porterà alla terza e così via. Per cui davvero impegnati in questo. Compi una singola azione ogni giorno e il tuo obiettivo sarà incredibilmente più vicino. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao! Ciao!